Scuola, lavoro, sapete perché a sinistra sono nervosi? Perché a Colle come in tutta la Toscana il 20 settembre tanta gente che ha sempre votato a sinistra per la prima volta sceglierà la Lega, sapete perché? Me l'ha detto prima un signore in piazza a Siena, io ho sempre votato a sinistra, vengo da una famiglia operaia, il mio babbo votava a sinistra, il mio nonno votava a sinistra, per la prima volta voto la Lega perché il PD mi aveva chiuso nella gabbia della legge Fornero e la Lega mi ha liberato dalla legge Fornero e io ho ricontrittato la mia pensione, il mio lavoro, il mio sorriso, la mia vita perché il lavoro non è di destra o di sinistra, il lavoro è lavoro, la scuola non è di sinistra, la sanità non è di destra o di sinistra e io ho chiesto a Susanna di andare a riaprire i troppi ospedali chiusi del partito democratico che ha tagliato ambulatori, posti voto, punti nascita e chiudo prima di dare la parola a Susanna, la sicurezza non è di destra o di sinistra, io il 3 ottobre andrò a processo in tribunale a Catania perché ho difeso il mio paese, io andrò in quel tribunale a testa alta perché mi taglio sempre se siamo messi a vincere.